salve popolo dell' mma e bentornati su mma italia se ricordate bene qualche settimana fa era uscita questa intervista e tante altre con colby comington che mostrava ai giornalisti un video di uno sparring di dustin poria in cui il fighter che affronterà conor mcgregor nella notte fra sabato e domenica in italia avrebbe messo al tappeto un amatore senza protezioni e l'avrebbe provocato con messaggi irrispettosi ebbene questo filmato è stato pubblicato proprio da colby covington sui social vediamo dustin con il caschetto rosso il segno destro piega le gambe al suo avversario si allontana un urletto sembra un brasiliano l'avversario urla è new la qualità delle immagini non è altissima però da quel che si vede nulla di eclatante nulla di eccezionale roba abbastanza standard considerando il contesto quindi abbastanza un buco nell'acqua da parte di colby il suo personaggio abbastanza divertente però questa volta ha toccato proprio alla grande almeno secondo sitemi cosa ne pensate nei commenti questa è la reazione sui social nei messaggi da parte di colby questo questa è la didascalia pubblicata da colby che spiega un po la situazione i due protagonisti del video e chiede agli spettatori se dustin poria sia un bravo ragazzo un cattivo ragazzo e lascia a loro il giudizio c'è stata anche la reazione di jorge masvidal compagno di elementi e grande amico ex di colby covington che gli chiede ma perché non posti il video in cui dustin poria ti piega le gambe con un colpo al corpo sei sempre il solito hater verso le persone che ce la stanno facendo comunque hanno un momento di gloria e infine c'è stata la reazione anche del diretto protagonista dustin poria che precisa questo che ho messo a terra è un fighter professionista con 20 vittorie all'attivo il che spiegherebbe il perché della mancanza del caschetto mette un po più nel contesto la situazione mi sembra abbastanza palese un epic fail di colby covington ditemi cosa ne pensate nei commenti io vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao